Ben trovati a tutti, un nuovo appuntamento con Anima d'Autori inizia un nuovo anno e per noi l'occasione di far ripartire un ciclo di una trasmissione che è andata al di là delle nostre aspettative, dei nostri desideri. Ci fa molto piacere perché sono in tanti che ci seguono, tante persone appassionate di letteratura, di poesia, ma non solo, perché abbiamo scoperto che in realtà sapere che sul nostro territorio ci sono tanti autori, giovani e meno giovani, che però ogni giorno raccontano attraverso la loro parola diventa un patrimonio davvero per tutti. Ad accompagnarmi in questo viaggio, come sempre, il nostro amico editor Alessandro Ramberti. Alessandro, grazie di essere di nuovo qui. Grazie Simone, è un piacere iniziare questo nuovo ciclo. Penso anche per te un successo insperato, non pensavamo insomma che i nostri autori potessero entrare nelle case di tanti riminesi ed essere accolti anche con grande benevolenza. Sì, sono rimasto molto contento perché addirittura alcune persone mi fermano, mi riconoscono e dicono, ah ti ho visto ad Anima d'Autore, quindi fa piacere sapere che anche quando si parla di libri, di letteratura, qualcuno che ti ascolta, che è interessato, c'è. Esatto, proprio così, ci fa davvero piacere, tra l'altro però il tempo che abbiamo sempre a disposizione non è tantissimo, per cui iniziamo subito questa puntata perché abbiamo una graditissima ospita. Alessandro, ti chiederei di presentarle, così di introdurci nella sua anima d'autore. Abbiamo con noi Roberto Bertozzi, che è nata Cesena nel 72, critica d'arte e saggista, collabora con diverse riviste, tra cui il mensile poesia di Crocetti. Ha pubblicato due raccolte diversi, Il Rituale della Neve con Raffaelli nel 2003 e Gli Enervati di Giumiè con Pequod nel 2007. È presente nell'antologia della giovane poesia italiana Il Miele del Silenzio, curata da Giancarlo Pontigia per Interlinea nel 2009. Ha collaborato con le gallerie La Fisce di Milano, Gasparelli Arte Contemporanea di Fano e il Vicolo di Cesena. Nel 2000 ha fondato l'Associazione Culturale e Calligrafie, presente anche in internet, che promuove seminari, letture e incontri sulla poesia contemporanea. Si occupa di didattica della poesia, tenendo laboratori per i bambini e corsi di formazione per gli insegnanti nella scuola primaria. Nel 2008 è stata invitata, come rappresentante per l'Italia, al Festival Internazionale della Poesia Contemporanea di Zagabria. La sua attività critica e poetica è archiviata nel sito interno38.it. Roberta, so che tu sei anche insegnante. Come poetessa, come amante appunto di questa scrittura così piena di livelli interpretativi, così carica anche di analisi, anche di emozioni che è la poesia. Come la puoi presentare? Come la presenti? Perché so che l'hai già fatto ai tuoi studenti. Sì, è da diversi anni che sto portando avanti questo progetto, questo laboratorio. In realtà questa cosa è nata su sollecitazione da parte di una mia carissima amica bibliotecaria. È partita questa esperienza cercando più che altro di declinare il linguaggio poetico in modo tale che i bambini avvertissero anche quelle che sono le regole del gioco poetico. Quindi si lavora sulla rima, si lavora sul ritmo, si lavora sulle immagini, le metafore. Diciamo che la poesia diventa proprio anche se vogliamo strumento per imparare un linguaggio, per imparare un modo di rapportarsi con la parola. E niente, si crea una sorta di scambio forte anche perché questo tipo di metodo permette di lavorare con degli autori che spesso non vengono proposti ai bambini. Penso soprattutto agli autori di poesia del Novecento, di solito ritenuti difficili o comunque non adatti all'infanzia. Roberta, mi affascina molto questo tema della didattica della poetica, soprattutto perché non so, visto che tu hai lavorato tanto con i bambini, a mio avviso c'è una parola poetica che il bambino ha tutte le volte che pronuncia una parola per la prima volta. Anche un bimbo già grande, di 4-5 anni, la prima volta che utilizza una parola perché l'ha ascoltata, l'ha sentita da un adulto. Magari anche una parola difficile che poco c'entra con i suoi discorsi di gioco quotidiani. In realtà quella parola davvero assume una potenza particolare. Non so se tu hai fatto esperienza anche con i bambini proprio di un loro linguaggio, di una loro capacità intrinseca anche di ascolto della profondità e quindi anche per la narrazione, per davvero la parola poetica. Hai ragione, non solo. Fra l'altro c'è anche tutto, ritornando appunto a quello che dicevo prima, c'è tutto un filone del Novecento, soprattutto del Tardo Novecento, sto parlando dagli anni 60-70, dove le avanguardie poetiche in qualche modo hanno disarticolato il linguaggio. Quindi sono ritornati a quelle che si chiamano un po' le molecole, le sillabe, le letterine stesse, proprio le lettere. E quei bambini proponendo questo gioco, loro proprio ricostruiscono la parola in un modo quasi magico. C'è una sorta di magia, per cui effettivamente loro capiscono anche quello che la parola porta, veicola, non solo come senso, appunto significato, ma anche come suono, quindi come valore, diciamo così, rituale, come valore appunto magico. Ma ora parliamo proprio invece della tua poetica Roberta. Io come sempre faccio nelle nostre trasmissioni ti offro una tua opera semplicemente davvero perché possa rappresentare simbolicamente il passaggio della parola anche che si possa diffondere tra le persone. Forse anche tu poi ispirata anche da questi incontri con i bambini, chissà. Io ti ho offerto un'opera importante per te, tra le tue mani, insomma, che ci porta so anche al tuo contatto con un'altra grande arte che è la pittura, perché se non sbaglio la provocazione anche nasce da lì. Sì, questo è il mio secondo libro, un libro che è nato da un'occasione particolare, da questo quadro che vidi in Francia, un quadro che raffigurava due giovani, il quadro se non erro, ma adesso non ricordo bene, comunque credo sia fino ai 700, prima dell'800, narra una leggenda, la leggenda di questi due giovani figli del re Clodoveo che vennero abbandonati lungo il corso della Senna. Il padre, per impedire che i figli usurpassero il trono, decise appunto di enervarli. La pratica dell'enervazione è quella pratica che fa sì che tu non abbia più la capacità di stare in posizione retta, ti vengono recisi quelli che sono i tendini delle gambe, insomma. Mi sembrava una metafora molto bella di quello che è il mancato scambio generazionale che è avvenuto appunto in tempi recenti, cioè il fatto che fondamentalmente ci sia stato come una sorta di stallo in quello che è il passaggio di consegna, di civiltà, di possibilità, di potenzialità. Per cui ho immaginato il viaggio, appunto l'abbandono di questi giovani su questa nave barca alla deriva e ho immaginato il loro viaggio. È un poemetto, si compone di 17, 18, 18 sequenze, che dopo ce n'era anche una posta, mi sbaglio il numero. E niente, vi leggerò solo un brevissimo passaggio, proprio la sequenza conclusiva, che chiude tutto questo itinerario e loro appunto sono su questa nave e a un certo punto si chiarisce qualcosa, si chiarisce quella che potrebbe essere una pratica d'azione che loro potrebbero mettere in atto. Come si allunga l'orizzonte, come si ira serena, di luminarie, di torce elettriche ammazzi, come si insera. Sento un crepitio di fascette d'alloro e di passi, di passi lo scalpitare, che pestano e si ingrossano, come di cosa decisa, sulla pubblica, addominale, piazza, si impulsano, i passi incalzano, a turni e più. Come stantuffano ora i ventricoli del mio cuore. Sento che è deciso, ma non è esplicito, non riesce a fluire. Ci siamo quasi, sei pronto? Se avessi il copione forse sì, ma così adesso? Forse basta fischiare un richiamo? Non sono sicuro che sia questo. Appoggiati a me. L'acqua è il nostro specchio. Nella società dei fratelli è la paura a fare carità, a fare tutto stretto in coro all'altro. Nella spaventata fratellanza, nel rimedio, padre, io sono dell'olivo, raddoppio e le radici si inarcano al fusto, estorpio. Oh tu, abbi pietà. Sei pronto? Qui occorre spaccare, occorre mancarla del tutto, la realtà. Mi ha colpito molto il passaggio e la paura a fare carità. Anche in riferimento al tuo percorso poetico, a quello che stai scrivendo adesso, so che dopo ci leggerà anche qualche inelito, a cosa ti porta a scrivere, cosa hai capito del tuo scrivere poesia in tutto questo periodo in cui la stai scrivendo? Ho capito tante cose. Ho capito innanzitutto che non c'è nessuna dimensione di libertà. Fondamentalmente si pensa sempre che la creatività sia qualcosa che riguarda appunto la libera espressione, la possibilità di fare quello che si vuole, diciamo così, per dirla proprio in parole molto semplici. In realtà la pratica artistica e letteraria a tutti i livelli, non solo poetica, richiede non solo un rigore, proprio una forma di disciplina, ma a poco a poco tu ti rendi conto che la tua libertà può essere agita solo all'interno di vincoli. C'era Paul Valéry che diceva che gli artisti e i poeti moderni devono crearseli questi vincoli, devono crearsi tutti questi piccoli parametri proprio per far sì che l'atto creativo riesca a sorgere e a fondarsi. Tutto ciò deriva proprio dal fatto che a partire dall'Ottocento, da questa grande liberazione formale e dei valori stessi, con il rovesciamento di tutti i valori, c'è stato un movimento tale per cui tutto quanto si è disgregato e l'artista veramente ha dovuto cominciare a ricostruire di nuovo. Io credo molto in questa cosa, cioè che l'artista in fondo debba lasciarci qualcosa e costruire più che distrugge. Ormai si è distrutto talmente tanto che... Roberto è una metafora anche per il tempo contemporaneo, dove la destrutturazione deve forse lasciare davvero spazio alla costruzione. Forse per ricominciare a costruire avevamo bisogno di decostruire forse una forma che aveva obnubilato la sostanza, però forse ora è il tempo davvero di ricostruire e secondo me gli artisti in questo sono davvero un punto di partenza anche in un contesto più globale. Sì, assolutamente. Anche perché il punto è questo, c'è anche proprio tutto un discorso legato a quella che può essere la comunicabilità, legata al fatto che appunto questa opera di decostruzione a un certo punto ha fatto sì che l'artista, il poeta o appunto chi altro lavorasse in questi ambiti fosse veramente sciolto, separato da una comunità. Non ci fosse più anche quel tipo di scambio che permettesse il passaggio di questi contenuti, di queste forme. Per cui la costruzione è anche proprio come senso di ritrovare una sorta di legame, ritrovare qualcosa anche da donare, da dare. Ovviamente ciascuno con le proprie, con quelli che sono, di cui parlavo più, i propri vincoli. Esatto. Quindi quella che è la propria forma, la propria struttura, il proprio stile, il modo in cui noi siamo al mondo. È affascinante questa narrazione della poetica da parte di Roberta. Roberta, visto che il tempo purtroppo non è tantissimo, ti chiederei se ci puoi così regalare e donare anche un tuo inedito, un'opera su cui hai lavorato ultimamente. Sì, sono degli inediti. In realtà, come dicevo anche prima con Alessandro, è ancora tutto un cantiere, una grande officina, perché sono proprio gli esordi. Però il titolo ce l'hai. Il titolo ce l'ho, già quando uno ha il titolo ha un capisardo. È già un vincolo su quale puoi lavorare. È già un vincolo su quale puoi lavorare a tua libertà. Appunto. Il titolo, svegliamo l'arcano, il titolo è Blumen. Blumen è una parola che in tedesco significa fiore. In realtà ho scelto questa parola proprio per un gioco linguistico, perché Blumen fa rima con Numen. Il Numen è il luminoso, è ciò che appunto scatturisce, che può apparire, che può rivelare qualcosa di remoto, qualcosa di archetto. Io poi avevo pensato a uomini blu, quindi anche in inglese c'è un altro significato. È vero, è vero. Vedi come già apre. Niente, anche qui si tratta, non è in realtà, io mi ero concentrata in questi ultimi anni sulla forma poematica, sul tipo di movimento che genera questa forma. Questo in realtà credo che sia un po' un ritorno all'elegia, un po' un ritorno alla lirica, però sempre in queste forme molto più distese. Leggerò tre sequenze, appunto sono, ma forse anche meno. Allora, questo è proprio l'esordio del libro. Che il silenzio fosse questo punto metallico, le mani ferme sul piano del tavolo, così e così gravemente nella torsione di giugno, quando ogni cosa preme per farsi spazio ovunque. Non puoi sbagliarti adesso e vedi l'oblio della casa, vedi quale misterioso potere si impadronisce degli uomini, del verde e del metallo, senza che siano consapevoli del modo in cui avviene. Il suo braccio che respinge e avvicina di continuo. «È normale che sia difficile all'inizio», disse, e anch'io ne sentivo il freno, uno strappo lungo il dorso del continente europeo, per catene di immagini, pagine, fortificazioni, per intervalli di tempo che non sai unire, finché non ne impari la sequenza, la fissità, nonostante. «E in quel punto capisci che nulla ci fu affidato, ancora non ti sei accorto delle mie mani, rovesciate all'aria, ferme». Questo pensavo quella sera di ritorno, lui che guidava a lato, una scia interminabile d'alberi, tralicci edifici, la campagna e ogni cosa a farsi stranamente, presente e viva, solo se arretrava in una sua foschia interiore, se ritirandosi anche ciò che avevamo di più proprio, nome, famiglia, stato di cittadinanza, la nostra superstizione psichica e morale, dissolvere per un contagio implacabile, quello che avrei voluto dirti, darti. Ma non tutto, e non una volta, forse nemmeno adesso. Sono così stanca che non possono che seguire altre considerazioni del genere, dal genere di ciò che nella stretta di un'emozione si balbetta appena, le parole le più semplici, tutto ciò che per forma di effusione, d'abbandono, o reclina a terra sulla linea di questo piano, senza che la sua bellezza, che la sua forza, si converta in atto. Questo era un po'... Beh, un bel dono, abbiamo proprio iniziato, tra l'altro insomma, bello questo immaginare, questo viaggio, questo dare, non dare, dire, non dire, molto molto bello. Roberta, noi ti ringraziamo perché è stato davvero un piacere incontrarti, speriamo di ritrovarti perché insomma... Magari appunto quando sarà pronta la nuova opera, facciamo un augurio, forza e bellezza con la poesia, diciamo così, e un grande saluto a Roberta Bertozzi, a Simona e a tutti voi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.